Tiri Morsi, Napolitano può essere felice, è stato un dirigente timido di un partito che oggi non esiste più, il Partito Comunista Italiano, e delle sue scelte successive. Il suo compagno di corrente, Napoleone Colaianni, si aspettava da lui un momento di rottura nella loro prospettiva, che era quella di un incontro col Partito Socialista, e all'ultimo momento Napolitano, questa storia, si ritrasse e Colaianni lo definì tra virgolette un vile e un cane da grembo, non riconoscendogli mai un coraggio politico, dopodiché è diventato Presidente della Repubblica, da che era un pensionato, voluto da Silvio Berlusconi, il nemico della democrazia, il vero protagonista dell'antipolitica italiana, quindi dal punto di vista personale Napolitano può essere felice, dal punto di vista di chi si aspettava da lui, da un uomo di sinistra, diciamo così, o dei gesti di discontinuità? No, la sensazione è che abbia gestito la conservazione, ci abbia fatto dono di alcuni governi che venivano indicati come assolutamente necessari, sembrava appunto che, come si chiama quello lì, quello della Banca d'Italia che noi abbiamo avuto, adesso ci manca anche il nome, che è stato Presidente Monti, credo, c'è stato un governo Monti, c'è stato questo momento, e adesso invece sembra che il problema sia l'antipolitica, si riferiva forse ai grillini, io provo errore per la modalità antidemocratica dei grillini, però bisogna anche prendere atto che questi grillini hanno colmato un vuoto politico che una sinistra ormai assente ha abbandonato al deserto dei Tartani. Si riferiva forse anche all'ostenzionismo, no? Ma l'ostenzionismo dipende anche dal fatto che la percezione comune che si ha del certo politico è delle brutte facce, diciamo, delle brutte facce di garantiti, ecco questo. Però quando io richiamavo il discorso di Napolitano in Parlamento, diciamo immediatamente successivo al suo secondo mandato, Napolitano però rispetto a quel Parlamento e a quella classe politica sembrava un gigante, erano andati tutti a chiedergli praticamente col piattino in mano di restare. Ma sembrava un gigante per una ragione molto semplice, perché conosce il suo lavoro, diciamo è un politico navigato, il giudizio politico complessivo per chi mi riguarda è negativo, anche da Ministro degli Interni, io rammento che Ministro degli Interni di un governo di sinistra lui giunge al Viminale e dichiara non siamo venuti qui ad aprire gli armati per tirare fuori gli scheletteri. Sinceramente da persona di sinistra, anche se indegnamente, io avrei voluto, non dico il comunismo libertario, ma un gesto di discontinuità reale. Non ce l'ha dato, non ce l'ha dato e adesso noi abbiamo la sensazione, diciamo, di la fascia più alta di Gran Comi dello Stato, vedendolo. Sarà contento lui, altri un po' meno.